Andiamo, andiamo dai Andiamo tutti, forza Forza, uno, due, tre Scendete Mio padre è mio Mio padre è mio Io non sono a casa mia quindi mi metto da parte Chi vuole la pappa? Pappa? No, mi fate morire come siete messi Pappa? Pappa? E ciao a tutti Come vi dicevo negli scorsi video Ho tre cani a casa perché ho anche Aaron Il can di mia mamma perché mia mamma è ricoverata Per il famoso intervento Che vi dicevo un po' di video fa E ve lo ripeto in tanti video Che dovevo affrontare per un'ernia Alla zona lombare Queste sono clip dei vari giorni In cui sono andata a trovarla in ospedale Ragazze è successo veramente un casino Ripeto la sanità Siciliana Magari restingo il campo a Palermitana È assurda Per non dire che fa schifo Sono pochi quelli che si salvano E quindi tra fila, traffico Vai e vieni Andare in ospedale Ritornare Sono passati ben otto giorni E adesso vi racconterò tutto 3.000 giri Per passeggiare sotto casa Perché questo genio è messo così Il genio Il genio Seminista Tippda di tattardi A Schneider A Schneider Il genio A Schneider Grazie a tutti. Ed eccomi qua, allora ragazze non so veramente dove iniziare, adesso rido, ma credetemi, sono stata inca da morire, depressa, confusa, tutti gli stati d'animo bruttissimi che ci sono su questa terra li ho provati io e anche mia madre. Allora, da dove iniziamo? Perché il discorso è lungo e ve l'avevo detto qualche video fa e ve lo ripeto, se volete prendete carta e penna perché veramente non si capirà nulla. Io cercherò di raccontarlo dal primo giorno all'ultimo e anch'io devo ripercorrere passo passo tutto quello che è successo perché ogni giorno, anche due, tre volte al giorno, anche quattro, c'era una novità diversa, di un risponso diverso. Partiamo dal, carta e penna raga, carta e penna segnate perché altrimenti è difficile seguire o comunque non fate salti nel video perché altrimenti non ci capita niente. Allora, ci hanno chiamate, qui potrei sbagliarmi però comunque a poco conto la cosa, un giorno prima, signora venga lunedì, si ricovera, ho parlato io al telefono con questa dottoressa, e l'intervento sarà fatto in giornata. Quindi, ok, bellissimo, finalmente ci hanno chiamate, l'hanno chiamata perché mia madre soffriva tantissimo, è una grossa ernia che ha alla zona lombare, che preme proprio sulla zona lombare e c'era il rischio di non riuscire a recuperare il piede sinistro perché il piede sinistro lei non lo sentiva più, non aveva più sensibilità e quindi anche con l'intervento c'era il rischio e comunque questo piede lei non lo recuperava. Quindi comunque non era un gioco, comunque era un intervento abbastanza pesante perché in anestesia totale e tutto, quindi diciamo eravamo contente perché prima fai, prima ti sbrighi, prima c'è possibilità di recuperare la sensibilità al piede, poi con la fisioterapia e tutto. Ok, arriviamo lì, vi dico anche quello che io ho dovuto fare, così capite e vi mettete nei miei panni, sarà un video lungo, io cercherò di stringere il discorso, di farla più breve, però quello che devo dire lo devo dire. Io mi organizzo perché essendo sola, con due bambini piccoli, mio marito lavora, mia suocera mi aiuta, sì, però giustamente comunque anche lei impegna le sue cose, però mi ha aiutato, di questo dico non possiamo dire nulla, assolutamente. Ok, anzi, un bacio a Giussi, praticamente mi organizzo, dico a mia suocera perché dovevamo essere lì alle 8, io e i bambini mi entrano a scuola alle 8, quindi non potevo lasciare i bambini e poi andarmene alle 8 e mezza, perché mi avevano detto di essere lì alle 8 che dovevano fare l'intervento. Ho detto ok, mia suocera Giussi, si chiama Giussi, vieni alle 7 e un quarto a casa mia, quindi comunque è scomodo un'altra persona, vieni a casa mia alle 7 e un quarto, ti faccio trovare i bambini pronti, io me ne vado, perché comunque c'è traffico da Isola delle Femmine a Palermo dove si trova l'ospedale, e poi ora di punta comunque del lavoro, dalle 7 comunque alle 8 e 9, e c'è molto traffico. Ti lasci i bambini pronti e tu me li accompagni a scuola, solo questo ok? Sì, non ti preoccupare, stai tranquilla, abbiamo fatto così, lei è venuta, io sono scesa alle 7 e un quarto con mia mamma, traffico e tutto, siamo arrivate in orario, prima delle 8, abbiamo aspettato, abbiamo aspettato fino alle 9 e mezza, quindi comunque già, lasciamo stare, ci può stare. Entra, la fanno entrare, verso già le 11 la chiamo e mi dice ma ancora non mi sono neanche spogliata, non mi hanno neanche fatto mettere il pigiama. Mi hanno dato la stanza ma non mi hanno fatto mettere il pigiama, doveva essere operata in giornata. Dopo un po' la richiamo e mi dice, mi hanno detto di rimanere vestita e mi hanno dato il camice, dicendomi che è inutile che mi metto il pigiama perché tanto comunque mi devono operare, quindi direttamente mi spoglio e mi metto il camice per andare in sala operatoria. Ok, e lì c'eravamo io e i miei zii perché non sono mai stata sola, di questo devo ringraziare anche loro, un bacione, non mi hanno lasciata da sola. Niente, dopo un po' se era fatto tipo mezzogiorno l'una, dalla mattina che eravamo là, ci dicono, no guardate potete andarvene perché per oggi non la operiamo più, non ce la facciamo. Ma come? L'avevate chiamata per l'intervento, quella dice, no no, ve ne potete anche andare perché per oggi non ce la facciamo, abbiamo avuto un'emergenza e ci può stare perché comunque parliamo del reparto di neurochirurgia. Se c'è un incidente o comunque qualcuno che ha, dio ce ne libri, una neurisma che comunque è una cosa che può esplodere, una qualsiasi cosa comunque più grave di quella di mia mamma passa avanti ed è normale. Ci può stare, ok va bene, ce ne andiamo, ciao mamma, ti opereranno domani, domani sarà fatto l'intervento, ci hanno detto quindi per il martedì e ce ne andiamo a casa. Me ne vado che erano tipo l'una e mezza, da là, perché l'oro di visita è da mezzogiorno a luna quindi mi hanno fatto entrare in quel lasso di tempo, ci hanno fatto entrare perché c'erano anche i miei zii in quel lasso di tempo e ce ne andiamo a casa perché comunque l'avrebbero operata l'indomani. Ragazzi ho il tempo di mettere il piede a casa, c'è dopo tutto il traffico e tutto, mettere il piede a casa, mio marito mi ha detto ti faccio un po' di pasta, nel frattempo che arrivi ti faccio trovare la pasta, mi richiamo mia madre, torna perché mi stanno operando, mi devono operare, vabbè, ok. Quella pasta l'ho bevuta praticamente, mi rimetto in macchina, chiamo di nuovo mia zia che era appena tornata a casa che tra l'altro ha figli e la sua vita e tutte le sue cose, vedi che hanno detto che la devono operare, mia zia ok sto tornando. C'eravamo appena tornati a casa di nuovo, stessa strada, traffico e tutto eccetera eccetera, arriviamo, il tempo di poggiare il sedere sulla sedia della strada Aspetto, mi chiama di nuovo mia madre, dice no mi hanno detto che non mi operano più perché ho mangiato un tramezzino. Cosa che gli avevano detto loro, perché gli avevano detto a Luna, signora può mangiare, può mangiare perché non la operiamo più, anzi vi dirò di più, loro stessi dicono che il mangiare del reparto fa schifo e quindi ci hanno consigliato di fargli mangiare qualcosa da fuori, quindi sono andata alla macchinetta e le ho preso un tramezzino con prosciutto e funghi, aveva mangiato solo quello. Ora io lo so che una persona che ha mangiato non si può operare, però perché l'avete fatta mangiare? A questo punto la tenevate comunque di giuna tutto il giorno e vedevate se a fine giornata riuscivate ad operarla, altrimenti la sera la facevate cenare, no l'hanno fatta mangiare. Quindi gli dicono che non la operano più perché aveva mangiato. Come non ti operano più? Mamma noi siamo tornati di qua di là, aspetta mi informo, lei dentro, noi fuori. No, è venuta la dottoressa che mi segue, dice anche poi mi segue no, che è praticamente la dottoressa che lei ha trovato quando ha fatto la visita all'ambulatorio dell'ospedale, non parliamo di visita a pagamento, ok? Perché quando paghi lo sappiamo benissimo che sei seguita alla grande, alla grandissima. Quando è con la mutua, e gli dice signora sicura ho mangiato solo un tramezzino? Dice sì ho mangiato solo quello, va bene allora stia tranquilla, era lì con l'anestesista che la operiamo e se ne va. Allora, quindi mi operano, allora aspettiamo. Nel frattempo arrivano altri otto dottori che non ho capito chi li ha mandati, tipo l'hanno cerchiata nel letto praticamente. Signora, ha mangiato o no? Allora non la dobbiamo operare, di qua, di là, cominciano a alzargli la gamba dicendogli, ah vede io gli alzo la gamba, lei non ha dolore. Allora io ho la terza media ragazzi, sono arrivata al quarto superiore, ahimè, sono arrivata al quarto superiore e purtroppo ho mollato. E me ne sono pentita, potrei anche prendermi il diploma adesso, dico, a volte ci penso. Però, lasciamo stare i quattro anni che ho fatto alle superiori, giusto? Perché poi la cultura comunque è generale, ti puoi informare anche guardando su internet, internet, insomma, si può acquisire, ma comunque rimango una persona con la terza media, capisco che se una persona, un essere umano, è sotto morfina, come era mia madre, sotto morfina, se tu gli dai una coltellata, non la sente, perché mia madre infatti da due mesi assumeva la morfina, che è un farmaco fortissimo, potentissimo, e non aveva neanche un mal di testa, non solo il dolore alla gamba, non aveva nessun dolore, perché la morfina spegne il neurotrasmettitore del dolore che fa arrivare il dolore al cervello, e lo so io che è la terza media, ok? Questi qua gli alzavano la gamba, medici, laureati parliamo, cioè, laurea, dottorato e tutto, magari pure due di lauree, gli alzavano la gamba e gli dicevano, signora, lei non sente dolore, quindi allora non è da operare, hanno cominciato con questa cosa, forse non è da operare, come non sono da operare? Comunque però ho già mangiato, non la operiamo, ok, io sono entrata e ho fatto il casino, al primo giorno, perché veramente mi sono incazzata bestia del fatto che non capiscono che la gente non è un pupazzo, cioè, ha la sua vita, io ho due bambini, devo vedere dove li devo lasciare, dove non li devo lasciare, mia madre è un essere umano, è in ansia perché gli dovete fare un intervento, la operiamo, non la operiamo, c'è che gioco è, io ho detto questo, a che gioco stiamo giocando, poi ho detto anche altre parole che comunque lasciamo stare, sono impazzita ragazze, ve l'ho detto sempre, non sono una santa, cosa che non avessi mai fatto ragazze, perché purtroppo, come si suol dire, loro hanno il coltello dalla parte del manico e quindi per dispetto, non solo non l'hanno operata quel giorno, perché fanno i dispetti, come i bambini dell'asilo, gli hanno detto, e non la operiamo neanche domani, ma non per rispetto signora, perché domani abbiamo già una giornata organizzata di interventi e lei non è inclusa, non è così, perché quando tu non riesci ad operare una persona il giorno prima, solitamente è la prima che apri il giorno dopo, o comunque la inserisci, va bene, andiamo avanti, non ho detto nulla, qui ho detto, va bene, basta, lasciamo stare, quindi martedì passa pure in cavalleria, ricoverata senza essere operata. Mercoledì risale questa meravigliosa cerchia di dottori e cominciano a visitarla di qua, di là, gli cominciano a dire, signora non è da operare, non è da operare, perché il dolore non ce l'ha più, sempre se sto, stessa storia, sempre mia madre sotto morfina, non ce l'ha più, la gamba l'alza, e poi cominciano a infierire su mia madre con frasi poco felici, assolutamente, uno di loro, dicendogli, signora ma secondo lei se si opera ritorna a correre, signora ma secondo lei torna a camminare bene, non è detto che le fanno l'intervento e le torna a camminare bene, ora una persona che comunque è abituata, come mia madre, che faceva di tutto, tutto da sola, anche le pulizie, tutto, che comunque ha 72 anni, dice, non è che ne ha 90 e tu gli vieni a dire queste cose, praticamente gli fai crollare un sogno, che lei pensava, io mi opero e quindi riprendo la funzionalità della schiena, delle gambe, tutto, ha cominciato a dirgli tutte queste cose bruttissime che non si dicono, addirittura gli ha detto, ah per ora dorme due ore a notte perché è sotto morfina, ma non è detto che la morfina può essere che il suo ritmo è cambiato e le dormirà per sempre due ore a notte, ma che significa? Ma perché si parla così ai malati? Cioè dovete avere, se fate questo lavoro, un minimo di cuore, un minimo di modo per dire le cose, e poi queste non sono cose che si dicono a un malato, è come dire a una persona che ha un tumore, ma secondo lei se l'operano sopravvive, ma può darsi che muore, ma che significa? Ma che significa? Comunque gli dicono che non era ad operare, che avrebbero staccato questa morfina e le altre medicine che faceva piano piano per capire se lei senza le medicine sentiva dolore. Ora il giovedì, tutto questo noi eravamo sempre là dietro la porta, anche il mercoledì perché la dovevano operare, quindi io, mia zia di nuovo insomma, cioè ritorniamo a casa proprio tipo sconfitti, poi lei comunque gli è crollato tutto perché gli hanno cominciato a dire tutte queste cose terrificanti. Il giovedì passa in cavalleria perché stanno provando a togliergli questi medicinali, il venerdì comunque lei già comincia ad avvertire qualche dolorino, comincia dalla spalla a sentire qualche dolorino perché hanno cominciato a dimezzarli, fino a toglierli queste medicine, questi medicinali. Il sabato ragazze già sta male, perché comunque ha dolore, la domenica addirittura cade. La domenica mia madre non aveva più sensibilità alla parte dell'osso sacro, non riusciva a fare lo sforzo nel letto comunque di trascinare il sedere, e doveva aiutarsi con le braccia, quindi comunque quella zona morta completamente dove era l'ernia. E loro continuavano a dire che non era ad operare, continuavano a dire che non era ad operare perché l'ernia, tramite un'altra risonanza che le avevano fatto, risultava che si stava, non mi viene adesso il termine, calcificando. Si stava calcificando, diciamo tra virgolette un po' riassorbita, cioè non so neanche che significhi, perché questo sono termini scientifici che io capisco. Comunque, diciamo che era migliorata, boh, che non so che significa. E non era ad operare, a meno che non avrebbe avuto questo dolore alla gamba, si fissavano con questa gamba, che mia madre non aveva, mia madre aveva dolore da tutta la schiena, dalla spalla in giù, non riusciva a sollevare il sedere, non riusciva a muoversi nel letto, è caduta, la domenica parliamo, il lunedì io sono andata a vederla, sì, comunque sono andata ogni giorno, ci sono stati pochi giorni dove proprio non potevo e lei stessa mi ha detto guarda rimani a casa, perché comunque era in lastre di tempo di un'ora, che la potevo vedere, perché non fanno entrare, l'ho trovata proprio malissimo, cioè proprio non riusciva proprio a camminare, stava male anche psicologicamente, perché comunque queste medicine ti tengono in uno stato di umore, comunque di euforia, perché la morfina è un oppio, è un oppio, e la danno anche ai malati di cancro per non sentire il dolore, cioè una medicina molto forte, e quindi comunque c'è stato questo calo proprio anche psicologico, e soprattutto questa violenza psicologica che fanno negli ospedali, perché è questo, perché ogni dottore che entrava gli diceva la sua, anche con le medicine, la dottoressa le ha detto togliamo tutto, andiamo a dimezzare, poi togliamo tutto per vedere se ha dolore, ogni infermiere che entrava non era informato che lei doveva togliere le medicine, quindi gli portava tutto, e mia madre doveva ripetere ad ognuno di loro, ma non ce l'avete scritto da qualche parte, io non le devo prendere tutte, me ne stanno dimezzando fino ad arrivare che non devo prenderle più, ah ma noi non lo sappiamo, non è scritto da nessuna parte, di qua, di là, cioè non c'era proprio comunicazione in questo reparto, ma già non c'era comunicazione dall'inizio, quando un medico entrava e diceva la opero, le dava il camice, un altro entrava dopo e gli diceva no, non è da operare, un altro gli diceva la operiamo domani, un altro gli diceva no, non è da operare, ragazze proprio non comunicavano assolutamente, mia madre arriva a stare malissimo, era pure caduta, fino a che lei ferma un medico, tipo impazzita, gli diceva guarda senza, io non posso tornare a casa così, cioè perché io sono peggiorata rispetto a quando ho iniziato ad avere il dolore, io sto malissimo, non riesco a camminare, come faccio io a fare una vita del genere, cioè è assurdo che voi mi volete dimettere, allora è andato il primario, il giorno dopo questo dottore gli ha promesso che sarebbe andato al primario, a vedere la situazione, il primario, non so che dire raga, boh, perché poi alla fine diciamo che gli ha risolto la situazione, però lì per lì anche il primario, gli ha detto signora se vuole, perché si parla così se vuole, cioè decidete voi, se siamo in ospedale decide lei se mi devo operare o no, se vuole noi la operiamo, vuole, tipo si prende la responsabilità, cioè non so che significa, altrimenti va a casa 20 giorni, ma la devono dimettere loro, firma no ragazzi, dal primo giorno gli dico non mettere firma, perché assolutamente non esiste, ti devono dimettere loro, nella situazione in cui sei, va a casa 20 giorni, vede come sta, che già stava malissimo, e altrimenti se sta male la ricoveriamo di nuovo per operarla, mia madre dice no, io di qua non mi muovo, si è confrontata anche con me, al telefono, non mi muovo, vedete cosa dovete fare, siete voi che vi dovete prendere la responsabilità, morale della favola, io l'ho dovuto dire mia mamma, perché non si prendevano la responsabilità, dice no voglio essere operata, voglio essere operata, perché io così non posso stare assolutamente, ok domani gli operiamo, questo qua era il lunedì, no domani gli operiamo, non gliel'hanno detto, gli hanno detto, adesso vediamo, valutiamo, e al limite facciamo l'intervento, la cosa che fa ridere in tutto questo, è che le hanno dato il primo camice, il primo giorno, poi un altro di questi giorni, che era pronta per l'intervento, era pronta per scenderla praticamente in sala operatoria, e poi hanno deciso di non operarla più, le hanno dato un altro camice, e poi praticamente da questo lunedì, che le avevano detto, signora vediamo se domani non operiamo, l'ha mazzinato con i martedì, decidono di botto, boom, e la prendono la prima di tutti, cioè di notte quasi l'hanno presa, le dono il camice alle 8 di mattina, lei ha avuto il tempo di chiamarmi al volo, e la scendono in sala operatoria, che poi tra le altre cose mi ha detto, forse mi operano, ma quando l'hanno scesa in sala operatoria, l'hanno stonata giustamente, le hanno fatto una puntura, un qualcosa, prima dell'anestesia, e lei non ha avuto il tempo di dirmelo, ma siccome io comunque già avevo capito la situazione, ho capito che le stavano facendo l'intervento, quindi le hanno dato il terzo camice, e le hanno detto, signora faccia la collezione, cioè pure loro, magari ridono pure loro, cioè tre, tre camici, ok, io la chiamo, quel martedì, e vedo che non mi risponde più, prima, secondo, terzo chiamato, ho detto ok, secondo me si sono decisi, vado, parto da sola, arrivo, suono, e mi dicono, sì la signora l'abbiamo scesa, dice in sala operatoria, la stanno, stanno operando, stanno facendo l'intervento, ok, chiamo di nuovo mia zia, che ho detto, zia guarda c'è questa situazione, sto venendo, dice ma c'è da morire, dice siamo stati, tre volte per tre giorni, tutto il giorno l'anno, l'hanno operata, e ora di botto, bom, si sono decisi, ok, il tempo che comunque è arrivata mia zia, già l'hanno risalita, l'hanno risalita, anzi si sono tolti di poco, ci mi è arrivata poco dopo, e lei, io già ero entrata a vedere lei, perché praticamente già alle dieci e mezza l'avevano risalita, l'hanno messa in stanza e tutto, e ragazze, hanno fatto questo intervento, che è stato, una gravidanza di nove, come una gravidanza di nove mesi, perché ci sono stati otto giorni, e hanno detto, 100 miliardi di pareri diversi, e 100 miliardi di discordanze diverse, la operiamo, non la operiamo, non è da operare, e no, allora dobbiamo, niente ragazze, ci hanno fatto diventare pazzi, ci hanno fatto crollare il mondo addosso, perché comunque, ci hanno detto che, doveva stare per come stava, non camminava, bene, non era da operare, magari forse avrebbe ripreso un po' la funzionalità, con la fisioterapia, però, non ci sarebbe stato alcun miglioramento, quello che aveva si doveva tenere, che non si può sentire ragazza, e quindi hanno fatto questo intervento, ieri, e mia madre già ne ha visto beneficio, quindi comunque avevamo ragione, avevamo ragione, e avevamo ragione dall'inizio, quando c'è stato detto, perché c'è stato detto da una dottoressa, non ce lo siamo inventati noi, che era da operare, che era da operare, e comunque anche al più presto, perché mia madre da subito ha visto beneficio, quindi, questo è quello che ho vissuto in questi otto giorni, non so neanche io come ho fatto a far uscire dei vlogmas, nel mezzo di tutta questa situazione, ragazze, perché mi passava comunque per strada, il tempo, tra traffico e tutto, poi ospedale, poi ritornare, poi ogni minuto c'era una telefonata diversa, con un, mi operano, non mi operano, mi hanno detto che rimarrò così, ragazze, non potete capire, veramente, anzi, forse qualcuno di voi può capire, perché chi ha passato queste cose negli ospedali, quando ci sono questi casi così, di mala sanità, perché questa è mala sanità, poi è andato tutto bene, però ragazze, nel frattempo, ti cazzi, cioè veramente, proprio, ci hanno fatti impazzire, impazzire, quando dicevo l'altra volta, qualche video fa, che comunque ti senti sotto pressione, ti senti annientata, da certe cose della vita, come appunto la sanità, ecco, questo è uno di quei casi, perché non c'era motivo di fare tutto questo, perché se era ad operare, è inutile, perché io ho fatto la litigata, vi siete impuntati così, che non la volete operare più, perché, comunque ve la siete presa, perché tutto è partito da là, se stavo zitta, e dico, se do operare, la operavate subito, il martedì, magari non il lunedì, o che non ce la facevate, il martedì, il mercoledì, ma non fare passare otto giorni, farla ridurre di nuovo, in una maniera, ragazze, disastrosa, e poi, di botto, finalmente è arrivato questo miracolo, che ringrazio il Signore, perché per me è un miracolo, perché anche per me da figlia, pensare che lei doveva rimanere così, ragazze, era una tragedia, e anche per lei, perché è una persona che è abituata ad essere autonoma, voi immaginatevi che gli dicono queste cose così, ah ma gli sembra che torna a correre, ah ma gli sembra che torna a camminare, ah va, veramente, quindi questo è tutto, interventato molto bene, adesso poi vedremo la ripresa, piano piano, e io penso che questo video, la mentela, no, era un racconto ragazze, ho ripercorso tutto quello che ho vissuto in questi otto giorni, e che abbiamo vissuto in questi otto giorni, una pazzia veramente, sembrava l'ospedale dei pazzi, chi diceva una cosa, chi ne diceva un'altra, ma poi a distanza tipo di dieci minuti, l'una dall'altra, ne dicevano diverse le cose, io vi mando, un grosso bacio, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia fatto chiarezza, vi abbia consolato, se qualcuno è passato nelle stesse cose, in cui sono passata io, sto passando io, e spero che siano finite, e ci vediamo al prossimo Vlogmas, ciao a tutti, e grazie per tutti gli auguri che mi avete fatto per la mia mamma, un bacione.